Ciccioli belligeranti ed eccoci, siamo praticamente arrivati quasi al pareggio con le scorte, il vero problema è che qui ad Aktau c'è palesemente una spia che ci sta sabotando, quindi noi dobbiamo assolutamente portare la nostra a fare counter intelligence perché devo scoprire chi è quel disgraziato. Preparate le lame, andiamo a caccia di spie! Buongiorno cicciulanza, eh sì, è l'episodio della caccia alle streghe, la caccia alle spie perché Aktau è sotto bersaglio da ormai due o tre turni di un agente nemico che non riusciamo ad identificare che continua a sabotarci gli edifici, quindi la notizia positiva è che Aktau è quasi tornata in pari con il cibo e quindi a breve potremo passare alla controffensiva e quando non muoiono le mogli muoiono i figli, che cosa terribile! Allora vieni su qua, io voglio vedere chi è il bastardo che ci sta sistemando, qua ci stanno massacrando, qua ci stanno veramente massacrando con quello, 19 dai che andiamo in positivo, meno male, meno male, attenzione allora questo campione critical chance evading enemy agents a manetta vediamo un po', allora eh il problema grosso è che qua a Aktau non riusciamo mica proviamo a ripararlo per l'ennesima volta, guardate i soldi che abbiamo buttato via ragazzi avevamo messo da parte un gruzzolo non indifferente attenzione perché adesso qua i problemi di cibo li abbiamo a Aktau allora niente, noi dobbiamo muoverci ce li abbiamo a Aktau i problemi di cibo adesso no niente, stiamo fermi, stiamo fermi, iniziamo a reclutare di qua pensate allora cercano di adottarci a Zatros, no non ce lo adotti minimamente eh vabbè ma ragazzi ma porca troia ma non è possibile sta cosa però eh ma che cavolo è terribile sta cosa 18.5 qui andiamo andiamo a meno 3 scendete in giù quanto abbiamo meno 37 meno 37 e qui dobbiamo correre qui dobbiamo correre quanto ci mettiamo ad arrivare qua? troppi turni forse a mule riusciamo forse ad a mule riusciamo meno 1255 ci dobbiamo mettere il risparmio energetico allora vai qua darglieli darglieli a lui tu torna dentro lì meno 870 eh ma è terrificante questa cosa d'actau eh mamma mia qua continuano a nascere i bambini eh ma io qua non posso più riparare io qua non posso più riparare qua ci dobbiamo muovere allora noi dobbiamo risparmiare denari quindi eliminiamo questi due per risparmiare un po' di soldi meno 6 io direi che potremmo tornare all'importazione di cibo io non capisco a dactau che cacchio sta succedendo cazzo ci sono i terremoti mamma mia ma qua dobbiamo alzare le tasse a palla incredibile come più si è poveri e più si è poco cibo più questi facciano bambini andiamo a scendere e mo c'è pure l'inverno e qua non possiamo riparare cioè adesso andiamo anche sotto di denaro mamma mia ma è devastante sta cosa 377 ma è terribile sta cosa e noi non possiamo lo so che è vuoto niente andiamo ad aumentare le tasse terribile e qua arriva arriva la notizia peggiore che potessimo ricevere la bancarotta allora in compenso siamo riusciti ad evitare il vero problema adesso qua è la bancarotta allora tu dispiegati e vediamo se il prossimo turno riusciamo finalmente a ad attaccare il vero problema è che il vero problema sono i soldi qua mamma mia allora fortunatamente si è riparato il centralized wrench e noi adesso dobbiamo andare ad attaccare a mull quanto ce ne fa perdere va bene 5% va benissimo allora noi dobbiamo luttare assolutamente perché ci servono i soldi controlliamo subito qua 143 meno 35 ok allora ad a mull vediamo che cosa costruire i proving grounds dobbiamo fare il centralized wrench madonna quanto tempo ci vuole per costruire ragazzi quanto tempo ci vuole per costruire è terribile sta cosa lo vediamo in questa provincia qua intanto 23 dai pian piano dai pian piano ce la facciamo anche qua ok bene siamo passati alla controffensiva la prossima deve essere per forza di cose marv deve essere per forza marv ok politica l'intrigo più due authority i tissageti sono morti i tissageti sono morti ok brutte notizie brutte notizie ma noi dobbiamo andare a marv minchia minchia allora noi potremmo andare di night attack e questa qua questa qua la dovremmo giocare per cercare di perdere meno uomini possibili cacchio corasmi eh allora vediamo un po' qua come è messa la città noi potremmo attaccare di qua la città Grazie 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 Pioggia di frecce violente Grazie 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 Ok, dentro direi. Novo horse archers! Missile riders! Battle's ready! Ready for battle! Warriors ready! Warriors eager for battle! Battle's ready! Missile armed riders! Ok, caricare da dietro. Mounted missile warriors! Novo horse archers! Ok. Qui abbiamo fatto una bella strage. Perdendone solo 161 direi che è buona. Direi che questa è buona. Il nostro problema grosso adesso saranno gli schiavi. Ma... Però questi sono ancora... Eh, però i corazmi, no? Hanno una... Hanno una cultura diversa dalla nostra. Dai! Luttiamo qua. Allora qui potremmo aver bisogno di rinforzi. Qui potremmo avere bisogno di rinforzi. Facciamo un bel merge. Perché tu adesso devi arrivare... Fai merge anche te. Torna qui. Allora gli dai questo. Togli questo, togli questo, ti prendi questo, questo. Sai che io toglierei anche questo qua? Per dargli un'altra lancia. Ok. Allora. E via. Allora. 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 Qua siamo in una situazione abbastanza critica, eh. Perché qui noi adesso... Dovremmo riuscire a tirare su un noble. E a reclutare come se non ci fosse un domani. Allora qua dobbiamo innanzitutto abbassare le tasse. Prenderei tre di questi. Anzi no, aspetta. Cambiamo l'editto. Inizio a tirarmi su due di questi. Ok. È a mulla però è a rischio così, eh. A mull così è a rischio. Questi sono semi logori. Allora vediamo se riusciamo... A tirar fuori... e un altro di queste... oh, oh, oh guardale qua, queste qua sono Aor buone. Queste qua sono Aor buone. Chissà che riusciamo a tirarle su Allora al Baris E via Seguiamo insieme gli spostamenti dell'IA nel passaggio del turno Perché questa potrebbe essere una situazione terribile E infatti ci vogliono isolare Infatti ci vogliono isolare Era quello che temevo Era quello che temevo E qua c'è la battaglia della vita ragazzi Qui c'è la battaglia della vita Signori Io concludo qui e prossimo episodio Il nostro alto re Rischia di vivere O di morire Lo scopriremo insieme Ciao belli